bella cucina ragazzi benvenuti in questo mondo sono il solito quando parlai del campionato francese lo so che vengono mi interessa però a me diverto con i video del campionato francese non c'è 18 giocchieremo di vento se forza che mi dispiace per il tipo di volentino come si dice mi dispiace per il tipo di volentino ma io mi sono stufata per sempre non c'è l'ingesto staccazzi di spirito mi sono svolto va ragazzi forza che ho bisogno di vincere 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 bacchiamo romaldo bacchiamo tutti bacchiamo tutti romaldo 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 per perdere per perdere vabbè comunque non è che voi due finire la guava però io ti chiedo perchè mi sta lì la juve cioè non mi sta bene però vincere sempre lo scudetto vincere sempre lo scudetto vincere 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 il milan la juve eh il milan la razza la roma l'impoli 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 però però vabbè mi stanno finiti lo scudetto lo scudetto lo scudetto vabbè il campionato World Cup la dove si è avuto un denaro che mi ha avuto vabbè quello non era il risultato non ci interessava molto però per la presenza ecco però il campionato in serie A possiamo vincere è importante quello potrete ma possiamo vincere perchè stasera contro la Lazio possiamo vincere anche 4 a 1 4 a 2 4 a 3 4 a 4 no 4 a 5 possiamo vincere sempre 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 tutte le partite tutte 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 sempre sempre anche contro l'Inter tutte le partite anche contro l'Ude Parma tutto tutte le partite così vinciamo il scudetto via vai la forza napoli forza napoli 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 sembra a Jürgen warmen ti può essere milan però sembra Jürgen ragazzi una scoglietta diciamo una scoglietta diciamo sono 11 o un quarto non sono 11 arrivo subito vado a vedere che ci sono non mi mangio tantissimo ragazzi sono le 12 meno un quarto vabbè vabbè guarda quest'anno devi vincere io scudetto devi vincere devi vincere contro la Lazio contro l'Empoli contro il Tagli dobbiamo imbattervi tutte le squadre contro la Lazio dobbiamo vincere contro tutte le partite dall'inizio alla fine non dobbiamo più perdere contro l'Iventus che abbiamo vinto altre volte vabbè ma non dobbiamo perdere contro le squadre scarse perché non possiamo vincere il campionato possiamo vincere il scudetto possiamo vincere tutto 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 possiamo vincere tutto tutto quantissimo possiamo vincere tutto tutto Napoli Napoli forza forza chievo 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 ronaldo vai a casa ronaldo vai a casa ronaldo vai a casa vabbè quello no vabbè vabbè ronaldo non deve fare nessun coro oggi no no meno male che ci vuole che i coini hanno dormito meno male meno male c'è chievo che c'è tuone 15 questa noia non solo dunque voglio non queste tutte scu reduz dai ah sì perché che ci motivating e poi domani ci saranno le altre partite che farò ovviamente il video farò ovviamente il video vedete guarda che sto guardando delle autizie se non ce ne sono vi faccio una notizia aspettate politano no cos'è guarda l'orologio delle 12 scusate non è colpa mia colpa tua stanno facendo il video così bene mi hai interrotto sto l'orologio di merda ma vabbè stavo facendo il video stavo facendo il video e non ci deve romper vabbè vabbè ragazzi ho il giusto l'orologio guardate non posso fare altra scelta mi suona sempre mi suona sempre mi suona sempre sempre ma pensavo facendo il video ma non devo fare questo rumore vabbè 7 minuti di video oh mio dio vabbè io vi saluto mentre ho il giusto l'orologio qua che continua a suonare non fate caso al l'orologio ascoltatemi a me ok io farò un video di Chievo di Levitus stasera quando è finita e poi di Lazio Napoli quando è finita forza Chievo e forza Napoli forza Chievo e forza Napoli forza Chievo e forza Napoli noi ci vediamo dopo la partita fra Chievo e Juventus ciao forza Chievo ciao